salve ben trovati siamo nuovamente da ottica apicella il mio canale anno c'era inferiore compagnia di antonio salve antonio a tutti per continuare questo nostro viaggio nel mondo della vista degli occhiali da sole appunto da vista ma non solo e oggi mi volevo soffermare in questo tuo piccolo regno un tuo laboratorio perché è possibile venire qui anche per un controllo prima di comprare degli occhiali certamente effettuiamo un check up gratuito della vista dove praticamente ci forniamo di macchinari di ultima generazione abbiamo a disposizione un autorefrattometro che ci permette di misurare la vista sia per i miei che per gli ipermetri e per gli assigmatici e in più abbiamo anche un tonometro a soffio per misurare problemi di pressione per le persone affette da un glaucoma da un keratocomo ecco e diciamo anche che è gratuito insomma questo servizio certamente sì è un servizio gratuito che offriamo a tutti e non dico 24 su 24 ma preferisco prendere una prenotazione qualche giorno prima per non aspettare i nostri clienti ecco in questo tuo piccolo laboratorio poi tu ripari anche gli occhiali ecco facciamo riparazioni in sede e con l'ausilio di macchinari sempre di ultimissima generazione siamo capaci di montare gli occhiali in 24 ore e riparazioni di montatura e vetri sempre in 24 ore ecco dicevo importante proprio per questo motivo perché ovviamente il fatto che tu fai tutto in sede rende tutto più veloce chi ha esigenza di avere subito gli occhiali per una riparazione non solo anche in 24 ore riusciamo a fare tutto soprattutto grazie a un ottimo staff che abbiamo all'interno del nostro negozio senza aumentare e maggiorare i prezzi anzi sempre con tanti sconti sempre con molti sconti valutiamo prima se bisogna fare l'occhiaio da vista al momento che c'è una patologia e possiamo intervenire facendo un occhiale da vista un occhiale da sole sempre graduato anche per gli occhiali da sole come per quelli da vista insomma un'ampia scelta tante marche tanti sconti qualsiasi tipo di occhiale qualsiasi tipo di marca può essere ritrovato nel nostro negozio allora antonio vale davvero la pena venire qui a trovarti dicevi per il controllo gratuito sempre preferibile magari un preavviso un appuntamento almeno di un giorno prima e allora ottica picella lo ricordiamo si trova in via canale a nocere inferiore praticamente di fianco il municipio quindi è anche facilissimo raggiungervi grazie antonio grazie a voi e grazie a voi per averci seguito grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi